cari amici della biblioteca sormani buongiorno a tutti sono luca crovi e sono qui per leggervi una storia un capitolo tratto dal mio l'ultima canzone del naviglio pubblicato da nero rizzoli ed è un libro che potete leggere in digitale collegando di corsetto della biblioteca sormani basta collegarvi e lo potrete leggere in linea quindi io vi do entriamo nella Milano di De Vicenze quella del 1929 quella in cui c'era il grande inverno quella in cui la città sopravvisse al grande inverno ma anche quella in cui la città per la prima volta vide chiudere i suoi navigli e pensate che vengono chiusi con una normativa che adesso vi leggo che è incredibile perché sosteneva che il naviglio è un pericolo sociale per l'attenzione esercitata sui deboli e sui venti di una grande metropoli i suicidi è un pericolo pubblico nelle notti invernali nebbiose per uomini vecchi che vi possono precipitare del resto nella nuova vita italiana voluta dal fascismo le ragioni di affermazione e miglioramento della razza devono avere il sopravvento su ogni altra considerazione la vita nelle nostre grandi città è tutta vervasa di uno spirito nuovo di realizzazione e potenza io racconto come avvenne questa chiusura del naviglio interno come iniziò l'interramento e come l'ultimo barcone che passò su quel naviglio fu in realtà una barca che portava i rotoli di carta al tombun del San Marco per il Corriere della Sera io mi immagino che oltre ai rotoli oltre ai marinai che c'erano su quella barca sulla barca forse ci fosse qualcos'altro e qualcosa di misterioso succede su quella barca come succede davanti alla basilica di Sant'Ambrogio dove davanti alla colonna del diavolo viene trovata morta una donna a occuparsi di questo mistero sarà il commissario De Vincenzo ma adesso gli regalo un'immagine col commissario quando nel 1929 per la prima volta si accorge che ci sono forse un po' troppe macchine a Milano e sarà vera forse che il dislu che Milano è un paese che mette angossa che l'area è marsana, umida e grossa e che non milanese sem turlu quando c'era a parlare male di Milano gli veniva sempre in mente l'inizio di una poesia di Carlo Porta i versi spiegavano come la città lombarda fosse una sorta di paese che trasmetteva una lieve angoscia dove l'aria era malsana, umida e grossa dove i milanesi sembravano un po' dei tontoloni, dei tarlucchi così era solita dirgli la sciura a Maria Ballerini perché la gente di Milano, quella sincera come la sua Portinaia e i suoi figlioni aveva un cuore che in altri posti d'Italia se lo potevano scordare e tutti quelli che prima o poi venivano a visitarla o a abitarci finivano immancabilmente per accorgersene il commissario Carlo De Vincenzi l'aveva capito subito aveva capito pure che a chi lasciava la città dopo avervi vissuto per qualche tempo restava appiccicata una strana sensazione una sorta di mal d'Africa che si sussurrava se chiamasse nostalgia de Milano in quei giorni di settembre del 22 però la Gran Milano pareva aver perso di colpo ogni difetto, ogni possibile motivo di nostalgia per assumere una forma tecnologica la folla che l'aveva riempita era incredibile secondo i giornali l'avevano invasa più di 10.000 auto il commissario Carlo De Vincenzi non aveva mai viste tante tutte insieme all'inizio, mentre le osservava sfilare aveva persino pensato che fossero frutto di un'illusione ma quando l'intenso odore del carburante bruciato dai nuovi veicoli aveva invaso prima il centro e poi la periferia allora il commissario si era convinto che fosse tutto vero quei boli di diverse fogge guidati da una varia umanità erano accorsi a Milano per il Gran Premio e si sarebbe svolto all'autodromo di Monza gli alberghi all'ombra della Madonnina erano stati literalmente invasi dagli appassionati della velocità e De Vincenzi aveva letto sul Corriere della Sera un brillante corsivo dedicato all'incredibile festa delle macchine iniziata sabato 9 settembre al sole che aveva preceduto la gara seguirono violenti temporali tuttavia il cambiamento repentino del tempo non impedì a più di centomila persone di accalcarsi fino all'inverosimile nell'autodromo di Monza seduto alla schimania del suo ufficio nella questura di piazza San Fedele De Vincenzi si divertì a leggere come le sensazioni che avevano provato in quei giorni passeggiando per le strade fossero state percebite in maniera altrettanto netta Milano restava ugualmente vertiginosa di forestieri ogni ora scaglionava per la città nuove carovane di automobili treni ordinari e speciali riversavano ondate di gente nei vagoni, negli alberghi, nei ristoranti la legge fisica sull'impernetrabilità dei corpi veniva trinformente battuta come tante altre leggi meno fisiche nelle conversazioni si incrociavano frasi tecniche nomi di eroi del volante, odori di preumatici si accendevano discussioni sull'alesaggio, sui due litri di cilindrata sui tre litri del conto da pagare in albergo sulla velocità a centinaia di chilometri all'ora si aveva l'impressione che prima di mettersi a parlare si dovesse innestare il cambio e dare dei segnali di trovo il claccion urlante di un'automobile che transitava sotto la questura fece sobbalzare il commissario De Vincenzi il poeta del crimine, l'uomo che tutti i giorni doveva affrontare i malnà della ligera ma anche altri tipi di ladri assassini si avvicinò alla finestra e l'aprì uè, ciola, guarda la strada l'autista di una Fiat stava apostrofando in maniera brutale un ragazzotto su una bicicletta che si trovava a pochi metri dal parafango della macchina il giovane era pallido di spavento De Vincenzi pensò di scendere per dire quattro parole a quell'uomo così arrogante ma quando si ritrovò in strada non c'era più traccia né dell'auto né della bici alle narici del poliziotto arrivò un acre odore di benzina cari amici vi auguro buona lettura con l'ultima canzone del naviglio che potete trovare tranquillamente in digitale lì alla biblioteca Sormani andando sul loro portale ma spero di vedervi presto e vi consiglio di leggere tutti i libri possibili che potete trovare a disposizione in biblioteca buona lettura a tutti io per ora resto a casa e vi consiglio di leggere e vi consiglio di leggere